Sicuramente mettere le caldaie tradizionali, le caldaie convenzionali, le caldaie a condensazione di cui ci ha parlato stamattina un precedente relatore. Poi abbiamo le pompe di calore che in realtà non sono apparecchi di conversione dell'energia ma sono apparecchi in grado di catturare energia e di riqualificarla dal punto di vista termico. Invece abbiamo i pannelli solari che in realtà convertono l'energia elettromagnetica che ci viene dal sole in energia termica o in energia elettrica secondo che essi siano pannelli termici o pannelli fotovoltaci. E poi abbiamo degli altri apparecchi che sono ad esempio gli scambiatori, anche qui gli scambiatori non sono dei generatori, non sono dei convertitori di energia ma sono dei catturatori di energia. Cioè sono degli apparecchi che avendo una temperatura inferiore a quella dei pozzi geotermici riescono a prendersi l'energia termica per effetto della differenza di temperatura chiaramente. Ecco su tutti questi voglio fare alcune considerazioni, ovviamente il tempo è poco anzi sono quasi alla fine, sulle caldaie a condensazione. Le caldaie a condensazione sono vendute sul mercato con un indice di prestazione che è maggiore di 1, come se fossero degli elementi che anziché disperdere energia nel processo di conversione la creano. Queste sono balle di tipo commerciale e semplicemente c'è un inghippo per la loro valutazione e basta. Nessun apparecchio è in grado di produrre più energia di quanta ne possegga e di quanta gli si metta dentro. In realtà c'è una grandezza che è la produzione di entropia che sta a spiegare che noi uomini comunque manipoliamo un sistema, un qualunque sistema in natura, ne disperdiamo, ne perdiamo una certa quantità. Allora che cosa abbiamo come dovere morale? Abbiamo il dovere morale di produrre la minor quantità di entropia, cioè di disperdere il meno possibile di questa energia perché tutto quello che togliamo noi, che non siamo più in grado di rintegrare, lo togliamo alle generazioni del futuro. Quindi tutti questi concetti che noi stiamo vedendo applicati agli edifici, applicati a tutto il resto, chiaramente sono dei concetti che hanno delle rilevazioni socio-economiche sull'umanità non da poco. Chiaramente poi con l'esaurimento di determinate fonti andiamo incontro ad altri ragionamenti, cerchiamo di sostituirle. Cerchiamo di sostituirle, pensiamo all'energia solare, pensiamo a tante cose, però dobbiamo pensare che mentre andiamo a toccare, a fare qualche cosa, sprechiamo. Quanti minuti ancora? Cinque minuti. Una volta che abbiamo convertito la nostra energia, dobbiamo pensare a distribuirla. Abbiamo degli impianti di distribuzione. Allora, nelle norme, in quelle che sono leggi coercitive che ci sono date e le norme di tipo volontario, ci sono alcuni concetti. Ad esempio c'è il rendimento di distribuzione e c'è il rendimento, ad esempio, legato alla qualificazione di una sorgente termica. Anche questi concetti, mentre sul rendimento di distribuzione posso essere quasi d'accordo, sul rendimento invece dell'efficienza delle diverse sorgenti, cioè il rendimento di un pannello a pavimento, oppure il rendimento di un pannello a soffitto, oppure il rendimento di un corpo scaldante, lì sono semplicemente pietosi artifici per cercare di spingere in direzione di un componente piuttosto che in direzione dell'altro. In realtà, se l'installazione è fatta bene, se tutto fa bene, se si isola bene, l'energia che è immessa è quella e quindi non cambia. C'è invece un trucchetto molto importante, ed è quello di distribuire l'energia ad un ambiente con una piccola differenza di temperatura, come diceva l'ingegnere stamattina, tra l'ambiente da riscaldare e il sistema che cede energia. Allora, diventa più efficiente un sistema caloriferi se, ad esempio, questi caloriferi sono tanti, quindi sono in grado di distribuire tante energie, ma sono a bassa temperatura. La differenza di temperatura tra la superficie del nostro calorifero e la temperatura dell'aria, cioè i 20 gradi che noi desideriamo, se questa differenza è bassa, quindi vanno meglio se sono a 40 gradi piuttosto che a 90 gradi. Questo, l'energia, quindi qui c'è una maggiore efficienza perché c'è una minore produzione di entropia. Questo è un concetto un po' difficile che utilizziamo noi termodinamici, ma comunque il risultato è questo, abbassare le temperature con cui si distribuisce l'energia ad un sistema. Chiaramente questo cosa comporta? Comporta un aumento dei costi di impianto, quindi se devo mettere più calorifere mi costa di più, però se io vado alla lunga, vado ad esaminare, faccio un bilancio nel tempo, o a dei ritorni. Questo è un concetto impiantistico che non è ancora passato. Poi ancora alcune favole. Chi è meglio? Riscaldamento a pavimento, riscaldamento a parete con radiazione, eccetera. Innanzitutto la gran balla è che esistono solo riscaldamenti a diraggiamento. L'irraggiamento da solo non esiste perché come si scalda una superficie c'è l'aria intorno e l'aria per effetto del campo di gravità...